Volevo diversificare, volevo prendermi cura delle mie finanze perché mi sta a cuore il futuro finanziario della mia famiglia. Volevo l'oro. Mi hanno offerto di tutto. Da miniere in Colombia a monete d'oro che davano rendimento. Da frazione di lingotti costruiti all'estero a criptomonete legate al metallo giallo. Da lingotti a metà prezzo a pepite di oro grezzo. Ma ero stanco di fregature. Non credo più agli asini che volano. Adesso valuto solo sulla base di contratti, autorizzazioni e certificazioni. In Italia c'è una legge che regola il mercato dell'oro fisico d'investimento. La legge 7 del 17 gennaio del 2000. Si può operare solo con l'autorizzazione di Banca d'Italia, con la licenza di pubblica sicurezza della questura e tutti i consulenti devono rispettare determinati requisiti richiesti dalla legge. Ho approfondito i miei studi sull'affascinante mondo dell'oro fisico d'investimento e sono arrivato alla conclusione che se da una parte è un prodotto che tutti conoscono, tutti vorrebbero, tutti dovrebbero avere, infatti solo lo 0,3% dei italiani possiede oro fisico d'investimento, dall'altra parte per chi lo porta sul mercato una grandissima opportunità di investimento. E così ho conosciuto Keris Gold, perché molti vendono oro ma i servizi che ci ha costruito intorno a Keris Gold sono unici. Mi sono fidato affidato a professoristi che da oltre 30 anni si occupano nel settore del risparmio e oggi sono qua nei panni di business manager aziendale. Lo scorso anno siamo cresciuti del 400% ma il meglio deve ancora venire. Io la definisco un'onda perfetta. E quando sei di fronte all'onda perfetta hai tre possibilità. La prima è quella di farti inondare, ma non è il caso. La seconda è quella di scappare da lontano, fare selfie, fare video. La terza invece è quella di cavalcarla e di giocarti la partita. A fianco sotto a questo video trovi due link. Se vuoi capire come salvare il risparmio della tua famiglia clicca sul primo link. Se vuoi conoscere anche come trarre vantaggio da questo mercato immenso invece clicca sul secondo link. E noi ci vediamo dall'altra parte.